Scende forte il cancelletto di partenza, attenzione per Comizioni, Moretto, Raccani, Battistuta, Vestini e Vorelli Vediamo San Giovanni Lupatotto al comando, casacca rossa per Lupatotino Per la numero 14, Liam Comizotti al comando in questo momento Attenzione, il San Giovanni Lupatotto con 3-3-2, c'è l'attacco per la seconda posizione E va a inserirsi anche Leonardo Moretto, Moretto, c'è l'1-2 del San Giovanni Lupatotto La terza posizione è Bagarre, Tarbici Magna di Garlate e la 48R, e la 48R che va a prendere la quarta posizione